Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fairy Cross e preferite My Loki e sono qui per un breve video di riflessione circa il nuovo trailer pubblicato durante lo State of Play relativo a Silent Hill 2 Remake. In questo video non analizzerò il trailer perché c'è tanto da dire, voglio però dare una giustificazione, cercare di razionalizzare come mai io ma tantissime altre persone hanno avuto una sensazione negativa nel vedere questo trailer che in teoria doveva essere una grandissima rivelazione visto che è il trailer in cui si vede il gameplay. Cominciamo col dire che non sono rimasta sorpresa da ciò che è stato mostrato a livello puramente di tipologia di gameplay dato che si erano già intraviste alcune schermate dietro le quinte in cui si parlava del progetto in cui effettivamente si vedeva il tipo di inquadratura e quindi basta vedere il tipo di inquadratura per immaginare un attimo come sarebbe stato il gameplay, diciamo questo TPS ormai con la visuale sulla spalla dai tempi di Resident Evil 4 che lo vediamo quindi nulla di rivoluzionario in tal senso a maggior ragione sapendolo già quando l'ho visto a schermo non ho urlato al miracolo. C'è però qualcosa che non va in questo trailer, in realtà più di qualcosa e non mi riferisco al tipo di gameplay perché effettivamente io per prima un remake di Silent Hill 2 lo immaginavo effettivamente con questo tipo di inquadratura con questo tipo di combat system. Il secondo trailer di Silent Hill 2 remake è molto diverso per mood, ritmo rispetto al primo al trailer di annuncio e il trailer di annuncio si focalizzava sulla narrativa che aveva anche una colonna sonora di accompagnamento molto più malinconica. Nel caso di un combat trailer chiaramente si punta più all'azione e anche le note che vengono usate come accompagnamento sono molto più incalzanti. Come ho già detto c'è tantissimo da dire su questo trailer per cui aspettatevi un video di almeno mezz'ora per analizzare quel minuto e trenta scarso. Qui limitiamoci a dire in pratica questo trailer alterna delle sezioni esplorative barra di enigmi ambientali con delle sezioni che vengono mostrate di scontri di James contro le varie creature che popolano i suoi incubi e questa Silent Hill. Nelle inquadrature un po' più statiche si ha un buon colpo d'occhio. Blue Bear è sempre stata molto efficiente nel creare l'atmosfera, nel gestire l'illuminazione, anche il fumo barra nebbia ha un volume. Secondo me preso come singolo screenshot il gioco funziona. Ma qual è il problema? Il problema è duplice. Da una parte abbiamo visto nel corso dei combattimenti dell'animazione un po' rigida e anche la camminata convince poco. Questo può essere dovuto a diversi fattori, uno dei quali poi approfondiremo nel video dedicato, ma è probabile che, se non quasi certo, che questa build è una build di gioco vecchia. Il leaker barra insider Das Golem che ha seguito il progetto e ci ha sempre azzeccato ha dichiarato che questo trailer lui lo aveva già visto a maggio 2023, quindi parliamo di una build parecchio vecchia se era stata mostrata come lavoro finito a maggio 2023. Ci dobbiamo domandare come mai si è scelto di mostrare una cosa così vecchia, ma è molto probabile che sia così anche perché se andate a guardare le clip pubblicate dall'account ufficiale di Silent Hill su Twitter hanno tutto un altro mood, sembrano molto più curate e molto più rifinite, quindi è plausibile. Non stiamo qui adesso ad approfondire come mai abbiano deciso di fare questa stronzata, di mostrare una build così vecchia, ma è plausibile che il gioco sia un po' più avanti rispetto così. Quindi per quanto riguarda almeno le animazioni, probabilmente vedremo parecchio di meglio nel gioco finito. Ma arriviamo al nocciolo della questione, visto che qui non stiamo facendo gli avvocati del diavolo, il trailer è una merda e il trailer è una merda sia per questo motivo, ovvero perché si è scelto di mostrare una build vecchia for reasons, qualunque sia il motivo, è un motivo stupido perché stai mostrando un prodotto che sai tu stesso essere inferiore rispetto a ciò che sarà il prodotto finito, ma il vero problema del trailer è che è montato da schifo e parlo da persona che non è esperta di music video. I trailer devono avere un ritmo, devono incalzare ed essere accompagnati in maniera adeguata alla musica. La musica deve essere al ritmo con le scene. Ciò che viene mostrato nel trailer, oltre ad avere delle brutte inquadrature, ci sono dei tagli repentini, la scena nella vasca da bagno fa schifo, con la vasca da bagno dura troppo poco e anche le inquadrature dei combattimenti sembrano delle clip montate a casaccio da una persona che non sa giocare bene. Anche ammesso che tu mostri una build vecchia, con quindi delle animazioni un pochino rigide, le puoi nascondere, è tutta una questione di saper montare bene il trailer. Vi assicuro che questo trailer, anche con animazioni fluide, sarebbe risultato comunque sgradevole. E per carità, non cominciamo col discorso, no ma perché James non è un vero combattente, quindi combatte male, oppure non volevano trasmettere il mood di un gioco troppo moderno. Che tra parentesi è una giustificazione che per me non ha senso, perché allora non fare i remake. Lo scopo dei remake è migliorare, tra virgolette, il prodotto originale, facendo proprio leva sul fatto che adesso non hai limiti di spazio, hai un engine potentissimo, quindi è ovvio che devi flexare su quello. Ma ripeto, il problema non è cosa viene mostrato, ma come il trailer è montato male. Manca completamente di ritmo, le inquadrature non sono curate, sembra un music video di inizio 2000 caricato da un tredicenne che non ha idea di quello che sta facendo. Non c'è una regia, non c'è un'evoluzione di ciò che viene mostrato, solo clip a caso. E questo probabilmente è dovuto proprio al fatto che questo trailer è un taglia e cusci di il trailer mostrato a maggio 2023 più alcune sezioni nuove. E purtroppo si vede. Per cui aspettatevi nei prossimi giorni, salute mia permettendo, un video di analisi, ve l'ho detto almeno 30 minuti, in cui parliamo di tutte le singole briciole e granelli di polvere presenti in questo trailer. Perché in realtà dettagli ce ne sono e cose interessanti ce ne sono tantissime. Però il trailer di per sé è bocciato. Sono preoccupata? Ni, nel senso che comunque è molto strano che abbiano deciso di riciclare quel materiale piuttosto che rifarlo da zero. Certo, un trailer da realizzare richiede tanto tempo ed è forza lavoro che viene spostata, viene deviata dal progetto principale, che è chiaramente la realizzazione del gioco, per creare quello che è un contenuto pubblicitario, alla fine informativo. Ma è il contenuto informativo che ti crea il feedback e che ti potenzialmente presenta nuovo pubblico. Se presenti male il tuo prodotto, chiaramente rischi tanto. Non è un caso che tutti i media alla fine investano così tanto in marketing. Senza considerare il fatto che va bene, è una build vecchia, però almeno un anno di lancio me lo potresti dare. Quindi la preoccupazione c'è che questo progetto sia un po' stato rimaneggiato parecchie volte, che sia un po' ripartito parecchie volte, magari per adattarsi al feedback dei giocatori. E di solito quando succede questo rimpasto, quello che esce fuori non è sempre il top. Ricordiamoci, i videogiochi non sono i minestroni della nonna che li continui ad allungare, continuando ad aggiungere avanzi e alla fine il gusto è sempre buono. Tuttavia non ho al momento preoccupazioni circa il gameplay di per sé e sono abbastanza convinta che a livello di animazioni i passi avanti ci saranno e come. Ma rimango comunque preoccupata, sia perché Bluebird Team non ha mai brillato a livello di realizzazione di gameplay vero e proprio, che per questo rimando, questo silenzio stampa, ho paura che dietro le quinte ci siano dei problemini. Ma concretamente non ho prove di questo, l'unica certezza al momento è che il trailer è montato a merda. Ma un trailer di merda non fa un gioco di merda, semplicemente chi si è occupato di creare quel trailer non è competente nel lavoro che ha fatto. Quindi io vi rimando a questo video di analisi, mi sono già presa tantissimi appunti, devo solo trovare la forza e il coraggio di mettermi a guardare frame per frame e discuterne con voi e incrociamo tutte le dita, anche perché The Short Message non è che mi abbia particolarmente convinta e anche di questo ne parleremo prestissimo. Ho tantissimi video in cantiere e non vedo l'ora di condividere con voi questo e tante altre sorprese. A questo punto fatemi sapere che cosa avete provato di impatto di pancia vedendo questo trailer di Silent Hill 2 Remake, lo aspettate, siete preoccupati, avete perso le speranze? Ditemi la vostra, detto questo io vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo se potete di lasciare un like e un commento per supportare l'algoritmo, dato che purtroppo per tutta una serie di ragioni questo canale è stato maltrattato e quindi YouTube mi sta punendo, seppellendomi. E con questo io vi saluto e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti.